Il progetto bresciano H più valore alla sanità, creato da Vincenzo Lanzoni, incontra la realtà bresciana Isinnova, fondata da Cristian Fracassi, per dare vita a Innova Cura Network, il laboratorio bresciano di innovazione dedicato alle realtà dei settori sanitario e sociosanitario. Innova Cura Network non è altro che una dimensione, l'abbiamo definito laboratorio bresciano di co-innovazione, cioè innovazione condivisa, attraverso la quale offriamo agli erogatori sanitari e sociosanitari l'opportunità di sperimentare tre dimensioni di innovazione, innovazione di prodotto, quindi di dispositivo, innovazione culturale nel settore sanitario e innovazione organizzativa. L'idea del laboratorio nasce dal voler provare a fare un grande tavolo riunioni all'interno del quale le figure e le entità che si occupano di medicale possono dialogare per raccontarci quali sono i problemi di cui hanno bisogno o che incontrano durante il loro cammino. Questo ci permetterebbe di poter fare innovazione in maniera molto sbilanciata e molto verticale sui problemi reali e concreti che il territorio possiede. Quindi non provare ad inventare, passatevi il termine, qualcosa casualmente, ma qualcosa di cui c'è veramente bisogno e come farlo se non mettendo al tavolo le persone che tutti i giorni si occupano di sanità. Quindi il progetto nasce proprio con questo obiettivo. Parola chiave della collaborazione è coinnovazione, in cui lo scambio reciproco delle competenze permetterà di ideare e sviluppare dispositivi e tecniche, quindi rispondere efficacemente alle esigenze del settore sanitario lombardo.